ciao mamma allora prima dobbiamo mettere l'aceto di vino bianco non so se si vede comunque è lui l'aceto di vino bianco dentro questo bicchietto sotto un piattino e la tovaglietta iniziamo col versare l'aceto qua dentro al bicchiere che puzza così può andare bene pronti per la scena fantastica poi prendiamo un po di bicarbonato ecco 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 fatto mami ecco 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 ec